buonasera buonasera e benvenuti o bentornati sul canale youtube smc il canale youtube legato al gruppo facebook svapo e musica club gruppo facebook del quale troverete il link in descrizione in descrizione troverete anche la pagina instagram e troverete anche la playlist di spotify che si ma sempre svapo e musica club andate la ascoltate ci mettete anche la musica che vi piace di più non c'è più il sottofondo musicale perché youtube ha cambiato le regole sta cambiando non solo youtube tutti i social stanno cambiando le regole sulla sui diritti d'autore e anche io anche noi abbiamo preferiamo non quindi non pubblicare musica senza diritti io sono filip a scusatevi invito anche ad iscrivervi a questo canale a cliccare sulla campanella così quando c'è qualche video vi arrivano le notifiche io sono filippo e questa sera parliamo di atomizzatori parliamo di atomizzatori low cost dunque parliamo di un atomizzatore di cui un sacco di gente parla un sacco bene voglio raccontarvi anch'io la mia anche se io onestamente devo essere sincero non sono riuscito a trovare la quadra di questo benedetto o maledetto atomizzatore che sia cioè io gli riconosco alcuni alcune caratteristiche piacevoli però ammetto che trovo ci sia di meglio tutto qua io onestamente trovo ci sia di meglio che non significa ripeto che non è buono con alcuni tabacchi io insomma ce lo userò con un tabacco che secondo me con cui secondo me rende però salt salt di coil art molto interessante perché è un atomizzatore tank da 18 ok non ce ne sono così tanti in giro si la iolos 16 insomma ci sono ma insomma è un atomizzatore con una misura un po particolare ragazzi lo stile siamo sempre lì adesso ne parliamo un secondo comunque confezione nera e gialla molto molto carina se devo essere sincero confezioncina all'interno ci sono una marea di al netto del depilante eccetera eccetera il volantino che andate a leggervi di certo me lo leggo io ci sono coil ci sono c'è silica gel ci sono c'è cotone c'è una marea di roba poi c'è un sacchettino con dentro delle o ring poi c'è un tank che lo rende più grosso per carità di dio non ci voglio neanche pensare un cacciavite che voglio dire come si può fare a meno del cacciavite eccetera e poi c'è finalmente il sto cazzo di tank scusa mi è scappato sto cazzo sto benedetto tank ok quindi una volta che avete siete riusciti a liberarvi di tutte le cose diverse delle quali inutili che ci sono all'interno di questa benedetta scatola ok trovate sto cazzo di atomizzatore che esteticamente è anche piuttosto carino devo essere sincero ma probabilmente perché io sono un amante delle cose non particolarmente grosse grandi eccetera e probabilmente dipende dal fatto che non ho bisogno di compensare sto scherzando questa è una battuta che faccio spesso a diversi amici a cui piacciono le cose grosse grosse amici non amiche che sarebbe poco carino vabbè a parte le stronzate drip tip molto 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 comodo anche se io lo cambio lo cambio soprattutto perché è molto comodo ma è metallo e io lo trovo particolarmente freddo e a me non piace comunque 510 ci mettete il cacchio di drip tip che volete un un anello superiore ok toglie svitando il quale si accede alle due asole per ricaricarlo vi dico subito qual è un pregio ma proprio no gigantesco di più di questo atomizzatore questo atomizzatore è impossibile capisci io non sono riuscito l'ho lasciato messo così rovescio per penso mezza giornata non ha perso mezza goccia si apre tenchettino sotto la campana proviamo a dargli un'occhiata ok è piuttosto rotondeggiante ok adesso è nera e si vede poco comunque insomma diciamo che è piuttosto rotondeggiante ma uno scalino siccome è nero si vede poco ha uno scalino tac cioè tac piega e poi diventa rotondo e questo ha fatto sì che tutto sommato a me non stia dispiacendo con alcuni tabacchi piuttosto secchi e insomma non mi dispiace poi vedete che anche la piegatura della campana non è molto molto spiovente questo tendenzialmente garantisce una garantisce che il tabacco che i liquidi all'interno prendono delle normalmente prendono delle note un po meno dolciastre ok e quindi io ci sto svapando un tabacco che è un po particolare vabbè andiamo avanti ok è finito il deck c'è ragazzi il deck sostanzialmente è una sorta di di deck da dripper ok sopra il quale infatti ci va la coil frontale sopra il quale ci va una campana che è la campana del siren dell'ashtour di tutta quella roba lì dell'epro di cui non so ho già parlato o parlerò nei prossimi giorni perché quello è un atomizzatore di cui io invece ho voglia di parlarvi ho voglia di parlarvi eccetera è facilissimo di rigenerare basta l'aria praticamente è un tank è un dripper fatto a tank tutto qua faccio la coil e arrivo faccio la rebate vabbè mi 80 punta da 2,5 ho usato la punta da 2,5 perché dentro a quella tutta quella marea di porcate che ci sono all'interno c'erano anche delle coil e le coil erano tutte con la punta da 2,5 quindi ho pensato e io tutto sommato ammetto che magari l'ho provato anche con la punta da 2 è meglio con la punta da 2,5 mi 80 28 gouge 6 spire un nom 08 ok adesso io mi sa che sono alto sono 17 ci abbassiamo un po gli diamo una roba ok sempre quella non è che cambia granché vedete che lì ci sono quei due fori ai lati della coil ci sono quei due fori bene dentro a quei due fori va infilato il cotone lo fa fatto scendere e quindi pesca come come tutti gli altri con la differenza che mentre sul siren o sul lastur ripeto lo devi appoggiare qui bisogna anche infilare il buco ora non entrerei nello specifico della questione dell'infilaggio del buco comunque c'è da infilare questi benedetti due buchi adesso vi faccio vedere arrivo subito cotone ce ne va un pochino perché ora che infilate appunto quei famosi buchi ce ne vuole un pochettino ora proviamo con la solita pinzetta con le punte piegate ok prendete il cotone gli date una piegata con il dito ok per me è molto meglio in questa maniera e con la punta infilate il buco che c'è lì ok si dai secondo me si è visto qualcosa va bene vedete che sotto sta uscendo guardate come esce sotto cucù bene poi andate da sotto ok ve lo tirate un po lo lasciate comunque come sempre bello spumeggiante non andate a impaccare troppo il cotone non serve quando gli atomizzatori vi vanno in secco oppure piscano spesso è perché magari sono stati cotonati non particolarmente bene qualche volta troppo stretto il cotone qualche volta troppo lasciato troppo lì eccetera 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 ok una volta che cotonate che se vi piscano gli atomizzatori qualche volta soprattutto quelli moderni perché sapete quelli vecchi magari c'erano ma quelli moderni sono fatti in modo che una volta che tu li hai cotonati se li hai cotonati come dio comanda onestamente non devono più piscare ok bene allora qui ho un baffo più grosso dell'altro e siccome io per queste cose sono autistico allora me lo infilo leggermente più dentro ok oro oro ben fatto ok bagniamo bagniamo questa questa cosa con un tabacco strong va bene io lo sto usando con un tabacco strong e vi dico la verità con questo tabacco di cui vi parlerò nei prossimi giorni va bene ma in realtà una volta che ho fatto questo poi faccio il video anche di questo e è perché qua si ottimizza non è che siamo qua a pettinare le bambole e neanche a pettinare il giaguaro no quello era a smacchiarlo vabbè ok non importa comunque stavo dicendo una volta che avete messo il coso il cotone sotto bagnate il cotone deve essere tutto bagnato fate una prova di attivazione si attiva noi siamo a 13 e 0,6 e quindi è quello che va bene è quello che può essere più che sufficiente adesso io mi sono perso la campana eccola qua l'ho trovata ok si infila la campana si avvita pensate che strano cioè stranissimo questo è un atomizzatore che si avvita questa è una roba allucinante andiamo a chiudere il pertugio dell'aria andiamo a chiudere il pertugio dell'aria che io siccome so' accecato faccio fatica a vedere se è chiuso dalla parte dove i buchini sono più piccoli si può chiudere chiudiamo il pertugio dell'aria e poi andiamo a caricare leggermente questo atomizzatore e gli diamo un pochettino di verve lo carichiamo così ci mettiamo la campana di sopra quella che serve appunto per chiudere il coso giriamo facciamo come ci insegna Mastro Santone dello svapo apriamo l'aria e poi lo riguriamo ce lo svapiamo con il suo drip tip ripeto è buono è molto buono il drip tip è veramente comodo sto drip tip ripeto a me non piace tantissimo semplicemente perché è un po' è un po' freddo è metallo ed è molto molto freddo non so perché è ghiacciato sto cazzo di drip tip allora siamo a la resistenza è venuta a 1.09 io direi di andare a 13.5 non tanto di più ok credo sia più che sufficiente allora così rende bene sinceramente così rende molto bene questo così mi piace veramente tanto lo metto così mi piace proprio tanto il forellino su cui lo sforo lo svapo regolarmente è sempre il secondo ora non chiedetemi quali sono precisi le misure eccetera non so se 0.8 1 eccetera io mi trovo bene con il secondo allora con i liquidi scuri molto scuri fa una cosa che probabilmente a tanti di voi non piacerà cioè è toglierli togliere tutte le note aggressivamente dolci ok e vi sembrerà strana questa cosa che sto dicendo ma io continuo a pensare che è così va bene aggressivamente dolci dei tabacchi scuri quindi della tacchia qui dentro ho una tacchia va bene quei sentori dolciastri profondamente dolciastri che ha la tacchia a me non piacciono questo atomizzatore ha il pregio che però in un certo senso è un difetto di rendermi piacevole un tabacco che normalmente non è esattamente nelle mie corde ok si sente fortemente una nota di fa sentire fortemente una nota di carbone proprio carbonella di bruciato di biscottato ma non biscottato nel senso del biscotto nel senso proprio del non so l'odore della carne sulla griglia che si è proprio bruciata la polenta visto che mi so veneto visto che io sono veneto la parte abbrustolita la parte abbrustolita delle pietanze che mangiamo in un liquido che onestamente in altri atomizzatori io queste note non le trovo sinceramente non le trovo probabilmente è lui che lo rende diverso da a me però piace qua sembrerà strano ma è così eh sì ripeto poi si sente molto bene la parte incensata si sente molto ripeto lui gli toglie tutte le note ora lo dico perché tanto magari qualcuno lo sa che la penso in questa maniera tutte le note fortemente sanguinolente della tacchia lui le toglie questo per me è un gran pregio per me è un gran pregio resta un tiro di guancia con tutti i fori aperti anche quello più grande è un tiro di guancia così vedete per esempio dandogli più aria prende molta molta meno ehm prende molto meno sentori di bruciata e torna quella nota dolciastra che a me non piace quindi torniamo a chiuderlo che è meglio stavo dicendo resta comunque sempre un bel tiro di guancia non passa mai a un tiro eccessivamente aperto siamo sicuramente a tiri più chiusi rispetto a un gus con i fori da 1.2 ok ripeto costa poco non costa tanto è un oggettino un po' particolare perché è una misura un po' strana eh se avete qualche euro da buttare buttare nel senso buono del termine eh è un atomizzatore che vi dà alcune note un po' particolari su diversi su diversi tabacchi io l'ho trovato adatto a questa eh io l'ho trovato adatto per la ricerca di questo tipo di sensazione poi magari qualcuno di voi lo troverà adatto per altro eccetera io ci ho provato anche dei fruttati un fruttato no però ci ho provato anche una crema o comunque un dolcione e non onestamente a me non è piaciuto mi toglieva troppa nota dolce eccetera eccetera non mi piaceva se vi piace il secco qua ci siete grazie di avermi seguito iscrivetevi al canale mettete un like se vi è piaciuto non mettete un like se non vi è piaciuto se mettete un dislike raccontateci qual è il problema che magari cerchiamo di migliorare venite a trovarci su facebook fate un giro fate un po' quello che vi pare grazie e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao